Il futuro dei prossimi anni anche della provincia di Arezzo passerà anche per il nuovo piano di sviluppo regionale. E' questo il tema di un incontro voluto da Confesercenti insieme alla vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Lucia De Robertis. Confesercenti ha convocato la presidenza provinciale per individuare le priorità, i progetti, gli investimenti utili alla crescita economica della Toscana. Noi chiediamo sostanzialmente, non c'è un progetto per la Toscana del Sud, quella che riguarda l'Aretino, mentre c'è un progetto per l'area Fiorentina, mentre c'è un progetto per la Costa, mentre c'è un progetto per l'area Toscana Nord. Non abbiamo visto un progetto, dei 26 progetti che compongono il piano regionale di sviluppo, che riguardi l'area della Toscana del Sud. E anche quest'area naturalmente ha bisogno di attività economiche che si sviluppino. Quindi sono ricomprese negli altri progetti, domanda che faremo alla consigliera. Oltre a questo il commercio in particolare ha necessità di investimenti, in particolare quello dei centri storici, il quale soffre e anche su questo nel piano che abbiamo potuto leggere non c'è molto. E questo è quello che noi solleveremo. Per Arezzo specificatamente, nel senso che siamo noi che dobbiamo chiedere alla regione cosa vogliamo per Arezzo. Il piano è composto da 22 progetti che vanno dalla dispersione scolastica fino a naturalmente commercio, turismo, infrastrutture e tanti altri argomenti che sono trasversali per uno sviluppo di un territorio. Noi dobbiamo essere bravi e credo che le categorie economiche in questo senso ci potranno aiutare a creare un bisogno comune. Cioè non è che ognuno vada in regione a aprire tavoli separatamente, ma bisogna creare un progetto di territorio partendo dalle criticità e questo è proprio il senso dei nostri incontri anche con i colleghi delle categorie economiche perché dobbiamo da loro ascoltare quali sono le criticità e su questo creare un progetto per poi dire voglio investire su questa cosa piuttosto che sull'altra.